Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale e mettere mi piace ai video per sostenerci. Khan Yaman in Sicilia riceve tutto l'amore dei suoi fan. L'attore turco è felice per il sostegno ricevuto durante le riprese di Viola come il Mare 2. Khan Yaman desidera condividere con tutti il significato del suo lavoro, quanto amore riceva dal suo pubblico e come ricambi tutto una volta terminato. Ecco perché la stella turca ha deciso di condividere alcuni scatti e i momenti speciali dedicati a tutti i suoi fan, che aspettano pazientemente tra una scena e l'altra di Viola come il Mare 2. Il cast di Viola come il Mare 2 si trova in Sicilia per girare alcune scene della fiction LuxVid, che presto sarà trasmessa in prima serata su Canale 5. La domanda che tutti si pongono è cosa accadrebbe se si scoprisse che Viola Vitale e il commissario capo Francesco de Mir sono davvero fratelli? Nel frattempo, Khan Yaman è stato al centro di una controversia per quanto accaduto a Palermo, con un video che lo ritrae scattare un telefono cellulare dalle mani di un fan e lanciarlo via. Dopo le critiche ricevute, Khan Yaman ha rilasciato diverse dichiarazioni. L'ultima affermazione è la seguente. Un set divertente con fanberi e rispettosi che aspettavano con ansia la fine delle riprese. E finalmente, nonostante la fatica accumulata, si è verificato un incontro gratificante. Ma mi dispiace. Quando lavoriamo dobbiamo sempre correre da una scena all'altra. E personalmente mi ritrovo spesso immerso nei personaggi e perso nei pensieri per fare del mio meglio. Cerco di concentrarmi e ripetere sempre le battute che devo pronunciare correttamente. Sappiate che non vi stiamo ignorando. Anzi, siamo felici del vostro supporto. Sappiate che vi abbraccio sempre, anche se non fisicamente. Viola come il mare 2 sarà straordinario, lo prometto, ha scritto Yaman su Instagram. Unisciti a noi e rimani aggiornato su tutte le ultime novità di Kenyoman e del mondo del cinema. Iscriviti al nostro canale e preparati a essere travolto dall'emozione.